Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Al giorno d'oggi tutti giocano ai videogame, dai giovani agli anziani. Che tu giochi sul tuo smartphone, console o computer, i giochi offrono una via di fuga dalle realtà quotidiane e servono come fonte di gioia e relax. Tuttavia ci sono giochi che hanno dei finali segreti, o magari dei finali incredibilmente difficili da raggiungere. Oggi ti mostreremo 20 finali segreti che nessuno ha visto. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20 Shadow of the Tomb Raider è un gioco d'azione e avventura sviluppato da Eidos Montreal e Crystal Dynamics, pubblicato a settembre 2018. Per raggiungere il finale segreto di questo gioco, due cose devono succedere. Un giocatore che lo trovi davvero è l'errore originale degli sviluppatori di includerlo. Quando Shadow of the Tomb Raider è stato rilasciato, i giocatori che avevano acquistato una copia fisica dal gioco potevano sperimentare una scena unica dopo i titoli di coda, se avessero completato il gioco. Il finale segreto offre ai giocatori una prospettiva unica sulla storia di Lara Croft e un accenno a ciò che le attende nei giochi futuri. Mentre la sequenza finale è simile alla versione ufficiale, la differenza principale è la presenza di una lettera di Jacqueline Atla, il personaggio originale dei primi giochi di Tomb Raider. È interessante notare che gli sviluppatori hanno rivelato che il finale alternativo non doveva essere incluso nella versione finale. Numero 19 Pac-Man è un videogioco sviluppato dalla Namco, pubblicato per la prima volta il 22 maggio del 1980. Del giro di un anno furono vendute 100.000 macchine arcade. Del gioco arcade originale di Pac-Man, il livello 256 doveva essere il livello finale, con un labirinto intenzionalmente impossibile da superare. A causa di un bug di memoria del gioco, il lato dresto dello schermo è diventato un pasticcio di codice, rendendo il livello ingiocabile. Il bug era causato da una combinazione della programmazione del livello e dalle limitazioni hardware a 8 bit del gioco in quel momento. Il labirinto occupa solo una parte dello schermo, mentre il resto dello spazio è occupato dal punteggio del gioco e da altre informazioni. Tuttavia, gli sviluppatori del gioco hanno trovato una soluzione creativa a questo problema, lasciando il lato destro dello schermo costantemente vuoto, consentendo a Pac-Man di spostare efficacemente da un lato all'altro dello schermo. Ma a causa di questo bug è stato impossibile completare il 256esimo livello. Nonostante ciò, Pac-Man è conosciuto come uno dei videogiochi di maggior successo di tutti i tempi. Numero 18 Super Meat Boy è un gioco in cui i giocatori controllano un piccolo personaggio rosso scuro a forma di cubo che deve salvare la sua ragazza dal malvagio scienziato Dr. Fitus. Il finale segreto di Super Meat Boy è una sfida notoriamente difficile, che richiede ai giocatori di completare tutti i livelli del gioco con solamente Meat Boy come personaggio. Ciò significa che i giocatori non possono utilizzare i personaggi sbloccabili o le skin alternative. Per renderlo ancora più difficile, i giocatori devono anche completare i livelli con un numero limitato di vite, rendendo gli errori e le morti molto più costosi. Il finale segreto può essere sbloccato raccogliendo tutte le bende nascoste durante il gioco, costringendo i giocatori a completare più volte ogni livello del gioco. Una volta raccolte tutte le bende, i giocatori possono accedere al Dark World, una serie di livelli ancora più impegnativi che vengono sbloccati. Una volta completati tutti i livelli del Dark World, i giocatori sbloccano il finale segreto del gioco. Qui devono superare una serie di ostacoli difficili e nemici pericolosi, culminando in una battaglia contro un boss e una versione valvaggia del Dr. Fetus. Il finale è unico, in quanto fornisce ulteriori informazioni di base sulla storia e sui personaggi del gioco. Numero 17 Donkey Kong è il nome di una nota serie di videogiochi prodotti da Nintendo e pubblicati per la prima volta nell'81. Il primo finale di Donkey Kong è il più familiare, il culmine dei livelli base del gioco e funge da percorso più diretto verso la vittoria. Per raggiungere il secondo finale, i giocatori devono completare tutti e quattro i livelli del gioco due volte di seguito. Una volta con l'impostazione facile e un'altra con l'impostazione difficile. In caso di successo, vediamo Donkey Kong scappare e creare una nuova roccaforte per Pauline. Per il terzo finale, i giocatori devono completare tutti e quattro i livelli due volte di fila nell'impostazione difficile, senza mai perdere una sola vita. Se ci riescono, sbloccano un nuovo livello più impegnativo in cui devono affrontare una versione ancora più forte di Donkey Kong. Questo finale è una prova di abilità e precisione e solo i giocatori più dedicati saranno in grado di raggiungerlo. Infine, il quarto finale di Donkey Kong è il più misterioso e stimolante di tutti. Per raggiungerlo, i giocatori devono attraversare una serie di livelli segreti all'interno del gioco. Questi livelli sono nascosti all'interno dei normali livelli del gioco e richiedono ai giocatori di completare determinate attività per sbloccarli. Una volta completati tutti questi livelli, i giocatori sbloccano il vero finale del gioco, che include una scena con Mario e Donkey Kong nella piazza di un villaggio. Numero 16 Batman Arkham Knight è un gioco di azioni e avventura sviluppato da Rocksteady Studios. Il gioco è il quarto capitolo della serie Batman Arkham ed è stato pubblicato da Warner Bros. per PlayStation 4, Windows e Xbox One. Del gioco, giochi nei panni di Batman e cerchi di salvare Gotham City dalle grinfie di un nuovo cattivo, l'Arkham Knight. Per sbloccare il finale segreto di questo gioco, i giocatori devono completare due compiti importanti. Innanzitutto, devono completare le missioni principali del gioco, che li porteranno attraverso una serie di intense battaglie in tutta Gotham City. Dopo aver completato queste missioni, devono raccogliere tutti i trofei dell'enigmista del gioco. I trofei sono sparsi in tutto il gioco e richiedono ai giocatori di usare le loro abilità investigative per trovare gli indizi nascosti e risolvere tutti gli enigmi. Una volta raccolti i trofei, i giocatori possono affrontare l'enigmista in persona e risolvere il suo enigma finale. Questo sblocca il vero finale del gioco, il finale segreto che si svolge dopo i titoli di coda e mostra Bruce Wayne che visita la tomba dei suoi genitori. Mentre si trova lì, appare un'apparizione del Joker che porta a uno scontro finale tra Batman e il clown Prince of Crime. Il confronto si svolge in una realtà alternativa in cui il Joker ha vinto e ha preso il controllo della mente di Batman, facendogli credere di essere lui il Joker. Presenta una battaglia finale unica in cui Batman deve combattere contro un esercito di cloni di Joker evitando trappole e ostacoli. Numero 15 Il gioco del dinosauro di Google è un browser game sviluppato da Google e può essere giocato quando non è disponibile una connessione internet. I giocatori controllano un dinosauro in corsa, saltando gli ostacoli per raccogliere i punti. Il gioco è progettato per tutte le persone che hanno problemi di connettività, quindi non si annoiano. Tuttavia, il gioco non ha una fine, poiché l'obiettivo è semplicemente quello di segnare più punti possibile, prima di scontrarsi con un ostacolo e perdere. Ci sono tuttavia vari traguardi che i giocatori possono raggiungere, che forniscono ricompense e aumentano la difficoltà del gioco. Il primo traguardo viene raggiunto con un punteggio di 100, dove i giocatori ricevono una medaglia di bronzo. Il secondo traguardo viene raggiunto a un punteggio di 500, dove i giocatori ricevono una medaglia d'argento. Il trezzo traguardo viene raggiunto con un punteggio di 1000, dove i giocatori ricevono una medaglia d'oro. Secondo un dipendente di Google, il gioco potrebbe durare 17 milioni di anni, il che significa che è impossibile raggiungerne la fine. Numero 14 Metal Gear Solid V The Phantom Pain è un videogioco pubblicato da Konami nel settembre del 2015. È un gioco d'azione stealth acclamato dalla critica, con una storia complessa e coinvolgente. Nel finale segreto, i giocatori scoprono che l'intero gioco era in realtà una simulazione creata dal personaggio noto come Punished Venom Snake. Snake era sotto il controllo del personaggio chiamato Domedic, che in realtà era il personaggio giocabile nel prologo del gioco. La simulazione aveva lo scopo di aiutare Snake a riprendersi dalle ferite fisiche e psicologiche che aveva subito. Una volta che Snake è completamente guarito, si risveglia nel mondo reale. Il finale segreto è stato inizialmente scoperto come un problema tecnico, che consentiva ai giocatori di aggirare la missione finale del gioco in determinate circostanze. Tuttavia, ci sono voluti 5 anni dopo l'uscita del gioco per scoprire un metodo ufficiale per sbloccare il finale. I giocatori dovevano costruire un'arma nucleare nel gioco e poi disarmarla in un modo specifico, innescando la scena con il vero finale. Numero 2 Silent Hill 2 è un videogioco survival horror sviluppato da Konami e pubblicato nel settembre del 2001. Per un gioco spaventoso come Silent Hill, è incredibile che un cane sia la mente dietro a tutto. Alla fine di Silent Hill 2, i giocatori incontrano un cane di nome Mira in una sala di controllo. Viene rivelato che gli eventi del gioco erano effettivamente controllati dal cane. Mentre James e Mira guardano un film insieme, diventa chiaro che Mira è responsabile degli eventi del gioco. Tuttavia, l'aspetto più divertente del finale non è la rivelazione che Mira sta controllando il gioco, ma piuttosto l'interazione comica tra lei e James. Mentre guardano insieme la scena finale, James forma un legalme con Mira. Tuttavia, il finale del cane non era incluso nella versione originale di Silent Hill 2. Successivamente, è stato aggiunto come finale segreto, che poteva essere sbloccato solo soddisfacendo una serie di condizioni specifiche. La sequenza delle condizioni necessarie per sbloccare il finale del cane è alquanto intricata, incluso l'avvio di una nuova partita sette volte, la raccolta di un oggetto specifico in ogni partita e la visione di un certo numero di filmati. Numero 12 Subway Surfers è un videogioco sviluppato dalle società danesi Kylo e SI Bio Games, ed è stato rilasciato il 24 maggio del 2012. L'obiettivo del gioco è semplice, i giocatori devono guidare il proprio personaggio attraverso un'infinita rete metropolitana, evitando ostacoli e raccogliendo monete. Tuttavia, Subway Surfer è un gioco che ufficialmente non ha una fine, è progettato come un'esperienza continua per i giocatori, con l'aggiunta di nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e coinvolgente. Ciò significa che i giocatori possono continuare a giocare per tutto il tempo che desiderano, cercando di migliorare i loro punteggi più alti e sbloccare nuovi personaggi e altri oggetti. Uno dei motivi per cui Subway Surfer è rimasto popolare tra i giocatori è il fatto che non finisce mai di giocare. Non ci sono mai due percorsi uguali nella rete della metropolitana, poiché la disposizione dei binari, degli ostacoli e dei potenziamenti viene generata casualmente ogni volta. I giocatori devono costantemente adattarsi all'ambiente in evoluzione, mantenendo i riflessi acuti e la mente concentrata. Numero 11 Fallout New Vegas è un gioco di ruolo sviluppato da Obsidian Entertainment e rilasciato nell'ottobre del 2010. Questo gioco ha un finale segreto che può essere sbloccato completando determinati compiti. Per raggiungere questo finale alternativo, i giocatori devono completare il DLC Lonesome Road. Durante il DLC i giocatori incontreranno un personaggio chiamato Ulisse che vuole lanciare missili nucleari nella zona contaminata del Mojave. Per sbloccare il finale segreto, i giocatori devono convincere Ulisse ad interrompere il lancio del missile coinvolgendolo in una conversazione filosofica. Questa conversazione deve aver luogo prima dello scontro finale con il boss del DLC, il capo dei Market Man. Se i giocatori riescono a convincere Ulisse ad annullare il lancio del missile, attiveranno il finale segreto. In questo finale i personaggi giungono a comprendere la loro storia condivisa e il suo impatto sulla zona contaminata del Mojave. Numero 10 Elden Ring è un gioco di azioni e avventura sviluppato da Bandai Namco ed è stato rilasciato il 25 febbraio del 2022. Per sbloccare il finale segreto di Elden Ring, i giocatori devono sconfiggere tutti e sei dei semi-dei sparsi nel gameplay open world. Una volta che i giocatori hanno sconfitto tutti e sei i semi-dei, ottengono l'accesso all'area finale del gioco dove affronteranno l'antagonista principale, Marika. Per sbloccare il finale segreto, i giocatori devono sconfiggere Marika e poi scegliere di diventare il nuovo dio dell'Elden Ring. Sebbene i dettagli di questo finale segreto non siano stati completamente rivelati, si suggerisce che i giocatori possano plasmare il futuro del mondo di gioco assumendo questo ruolo di dio. In termini di gameplay, il finale segreto fornisce un impegnativo ostacolo finale da superare per i giocatori. Numero 9 The Stanley Parable Ultra Deluxe è un gioco progettato da David Readen ed è stato rilasciato nel luglio del 2011. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo di Stanley, un impiegato che naviga in un ambiente surrenale e in continua evoluzione. Il gioco è noto per i suoi molteplici finali che consentono ai giocatori di esplorare una moltitudine di possibilità narrative. Per raggiungere i vari finali, i giocatori devono compiere scelte che si discostano dalle istruzioni del narratore o mettere in discussione i percorsi esistenti. Il finale segreto più popolare del gioco, noto come The Art Ending, può essere raggiunto seguendo una specifica sequenza di azioni nel gioco. Nella stanza con una serie di dipinti, i giocatori devono sfidare le istruzioni del narratore. Attivando con successo pulsanti o porte nascosti, si apre un percorso segreto che conduce alla fine dell'arte. Tuttavia, il gioco è accompagnato da effetti sonori e pianti del bambino che lo rendono a volte insopportabile, ma persistendo nel gioco per le 4 ore richieste, i giocatori vengono infine ricompensati trovando il finale segreto. Numero 8 L'Happy Bird è un'app mobile sviluppato da Dong Guyen e originariamente rilasciato a maggio 2013 per iPhone. La maggior parte di noi probabilmente ha giocato a questo gioco a un certo punto. Il gameplay è abbastanza semplice, i giocatori controllano un uccello che deve navigare attraverso una serie infinita di tubi, toccando lo schermo per fargli sbattere le ali. La difficoltà del gioco e il gameplay avvincente hanno rapidamente attirato l'attenzione dei giocatori mobile di tutto il mondo, determinando un livello di successo virale senza precedenti. Al suo apice, secondo quanto riferito, Flappy Bird veniva scaricato fino a 2 milioni di volte al giorno. Si dice che il gioco abbia un finale segreto a cui è possibile accedere solamente raggiungendo un punteggio di 999 o superiore. Se raggiungi la fine, incontrerai Mario che inizia a lanciarti delle palle di fuoco. Tuttavia, alcune persone sostengono che questo video sia falso. Quindi, tecnicamente, Flappy Bird non ha un finale ufficiale. Ma il punteggio più altro registrato su YouTube arriva da un utente di nome Jay Swan che ha ottenuto un punteggio di 2311. Numero 7 Sekiro Shadows Die Twice è un gioco di azione e avventura, sviluppato da Activision e pubblicato nel 2019. Il finale, ritorno nel gioco, è ampiamente considerato il finale vero e definitivo del gioco. Tuttavia, questo finale non è facile da raggiungere poiché i giocatori devono raccogliere oggetti e superare ostacoli. Devi anche sconfiggere il boss Divine Dragon che sblocca una campana che apre le porte del palazzo Fountainhead. Una volta lì, i giocatori devono sconfiggere il boss finale, Gufo, poi raccogliere oggetti e attivare una serie di eventi. Al raggiungimento della fine, il gioco fornisce una conclusione speciale aggiungendo più profondità alla storia del gioco. Numero 6 Duck Hunt è un videogioco sviluppato da Nintendo e pubblicato per la prima volta nell'aprile dell'84 in Giappone. È un gioco classico che molte persone cresciute negli anni 80 e 90 ricordano con affetto. Il gioco era semplice e avvincente, con i giocatori che utilizzavano una pistola di plastica per sparare alle anatre che volavano sullo schermo. Quello che molte persone potrebbero non sapere è che Duck Hunt aveva un finale segreto, accessibile solo dopo aver completato 99 livelli. Una volta che il giocatore ha raggiunto questo traguardo, appare una schermata intitolata Round Zero. A prima vista, la schermata del Round Zero appare identica ai livelli precedenti, con anatre che volano sullo schermo. Tuttavia, man mano che avanzi nel livello, noterai che qualcosa è diverso. Le anatre iniziano a muoversi più velocemente e seguono schemi più imprevedibili, rendendo sempre più difficile colpirle con la pistola. Man mano che il giocatore continua a sparare alle anatre ad avanzare nel livello, la difficoltà aumenta al punto che diventa quasi impossibile tenere il passo. Numero 5 Far Cry 4 e Far Cry 5 sono giochi sparatutto in prima persona sviluppati e pubblicati da Ubisoft. In Far Cry 4 il finale alternativo segreto può essere sbloccato molto presto nel gioco. Del finale normale al protagonista, AJ Gale, viene data la scelta di uccidere l'antagonista del gioco, Pagan Min, o lasciarlo andare. Tuttavia, nel finale segreto alternativo accade qualcosa di incredibile se il giocatore decide di aspettare il ritorno di Pagan Min invece di andarsene. Pagan Min ritorna, vede che il giocatore l'ha aspettato e porta AJ in un giro segreto in elicottero sopra il mondo del gioco. Durante questo volo, Pagan Min rivela che lui e AJ sono in realtà una famiglia e il gioco termina con i titoli di coda, mentre l'elicottero continua a volare senza che ci siano necessarie ulteriori azioni. In Far Cry 5 il finale alternativo segreto è leggermente più difficile da sbloccare. La storia principale del gioco luota attorno al personaggio, un vice sceriffo, che lavora per smascherare un culto apocalittico nelle zone rurali del Montana. Tuttavia, se il giocatore sceglie di resistere invece di progredire con gli obiettivi della missione, è possibile sbloccare un finale segreto. In questo finale alternativo, il personaggio viene catturato dal leader del culto, Joseph Seed, e ha un'ultima conversazione con lui. Joseph dice al personaggio che il mondo non può essere salvato e che lui e i suoi seguaci sono gli unici che sopravviveranno di fronte all'apocalisse. Il gioco termina quindi con il personaggio e i seguaci del culto che guardano mentre esplode un'esplosione nucleare, segnalando la fine del mondo. Numero 4 Petrus è un puzzle game progettato da Alexei Pajitnov ed è stato rilasciato per la prima volta nel giugno dell'84. Da allora è diventato uno dei videogiochi più popolari e duraturi di tutti i tempi. Tuttavia, Tetris è un gioco che non ha un finale definitivo. Il gioco è progettato per continuare all'infinito, fino a quando il giocatore non riesce più a tenere il passo con la velocità crescente dei blocchi che cadono. L'obiettivo è riempire il maggior numero possibile di righe prima che venga raggiunta la parte superiore del campo di gioco. Man mano che le linee vengono completate, scompaiono e il giocatore guadagna più punti. Più a lungo il giocatore può impedire il raggiungimento della cima, più alto sarà il suo punteggio. Pertanto il gioco può tecnicamente continuare fino a quanto il giocatore perdi o sceglie di fermarsi. Sebbene Tetris non abbia un finale tradizionale, i giocatori possono sforzarsi a migliorare i propri punteggi o competere contro altri per il punteggio più alto. Numero 3 Heavy Rain è un thriller psicologico sviluppato da Quantic Dream ed è stato rilasciato nel febbraio del 2010 in esclusiva per PlayStation. Il gioco presenta finali multipli determinanti dalle scelte del giocatore. I finali in Heavy Rain possono anche essere influenzati dalle missioni secondarie, obiettivi nascosti e persino degli eventi casuali che si verificano durante il gioco. Consentitemi di menzionarne alcuni, ma se volete sperimentare il gioco senza sapere cosa succede, potete passare all'argomento successivo nel video. Ecco i diversi finali del gioco. Numero 1 Ethan salva con successo suo figlio Sean e l'assassino di Origami viene arrestato dalla polizia. Numero 2 Madison riesce a salvare Ethan dalla casa in fiamme e l'assassino di Origami viene arrestato dalla polizia. Numero 3 Madison muore mentre tenta di salvare Ethan dalla casa in fiamme e l'assassino dell'Origami viene arrestato dalla polizia. Numero 4 Dorman risolve con successo il caso dell'assassino di Origami e l'assassino viene arrestato. Numero 5 Dorman non riesce a risolvere il caso dell'assassino e l'assassino rimane latitante. Numero 6 Scott muore nello scontro finale con l'assassino di Origami e l'assassino viene liberato. Numero 7 Tutti i personaggi giocabili muoiono e l'assassino degli Origami viene liberato. Viene rivelato che Ethan è in realtà l'assassino degli Origami. Questi sono solamente alcuni dei possibili esiti in Imi Reign e le scelte e le azioni del giocatore durante il gioco determineranno quale finale sperimenteranno. Numero 2 Dead Space Remake è un gioco horror di sopravvivenza pubblicato nel 2023 sviluppato da Motive Studio Electronic Arts. Innanzitutto è importante notare che questo finale alternativo è disponibile solamente per i giocatori che hanno completato il gioco due volte. Esatto, devi raccogliere il coraggio di affrontare ancora una volta il terrificante incubo di Dead Space per sbloccare questa conclusione sbalorditiva. Man mano che avanzi nel gioco noterai sottili cambiamenti nell'ambiente e accenni al fatto che non è tutto come sembra. E se riesci a raggiungere di nuovo la fine, sopportando circostanze sempre più inquietanti, scoprirai che le cose prendono una piega oscura. Mentre la navetta decolla, l'ambiente intorno a Isaac inizia a distoggersi a cambiare. Le pareti sono ricoperte di messaggi inquietanti scritti con il carattere del manufatto alieno noto come marker. Ma la svolta più inquietante arriva quando Isaac inizia a parlare con la sua fidanzata defunta Nicole. Sembra euforico di vederla e le dice che ha bisogno di costruire qualcosa di piccolo prima che possano tornare a casa. È una conclusione oscura e inquietante che lascerà sicuramente un'impressione duratura su chiunque abbia il coraggio di sbloccarla. Numero 1 Devil May Cry 5 è un gioco d'azione sviluppato da Capcom e pubblicato a marzo del 2019. È un gioco ad un alto numero di ottani che pompa adrenalina nelle vene e tiene i giocatori con il fiato sospeso. E per chi è abbastanza coraggioso ad affrontare questa sfida, c'è un finale segreto disponibile solamente sconfiggendo Urizen in un solo tentativo. Urizen è un demone immensamente potente e uno dei principali avversari del gioco. Ma se riesce a sconfiggerlo al primo tentativo sarà ricompensato con un finale alternativo che rivela ancora di più sulla storia e sui personaggi del gioco. Tuttavia raggiungere questo finale non è un compito facile. I giocatori devono pradroneggiare le meccaniche di combattimento del gioco e imparare gli attacchi di Urizen per avere anche solamente una possibilità. Richiede una combinazione di abilità, fortuna e perseveranza per avere successo, ma ne vale sicuramente la pena. Qual è il tuo videogioco preferito? Quale non è ancora completato? Facci sapere nei commenti! Se il video ti è piaciuto lascia un pollice in su! Se vuoi vedere altri video che ho fatto premine uno sullo schermo o guarda il mio canale! Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video! Grazie per la visione!